Il tuo telefono c'è rotto? Sì, il tuo telefono c'è rotto Ben ragazzi, qui è Ron Bentornati qui, il Melagodo fanno cose È una nuova serie, lo sapevi? Ti ricordi il cosa pulisci patate? Era per pulire i pei da rasoio Eh, uguale, sì, la stessa cosa Johnny, Kick e Dread oggi saranno loro I concorrenti di questo bellissimo quiz Maestro Ron Mi sento veramente troppo un conduttore televisivo In questo momento mi sto emozionando Oggi giocheremo alla 7 second challenge Famosissima, clamorosa, nuova 15 anni fa Molti fanno la 7 second challenge Tipo facendo cose Noi sarà semplicemente risposta diretta Però delle domande, qua c'è un timer Quindi, cosa molto semplice, vi ricordo ovviamente Di lasciare un bel mi piace Se volete altri video del genere Devi stare un po' più largo, che se no con la tua faccia enorme Mi copre la visuale, la bellezza Insomma del conduttore Vabbè ragazzi, però se non volete fare il video con me potete anche dirlo A o B Ho due colonne A Perché gli fai allungare le intro? Ma perché? Perché? Perché parli? Va bene, va bene Va bene Allora Non c'è problema Hai 7 secondi per dirmi 3 sport senza una rete 3 sport senza una rete? Basket? No c'è la rete Non c'è la rete a basket, è un canestro Finito Vabbè mi sono messo a disperare Ho detto 3 sport senza una rete, hai spregato 6 secondi Dovete dirlo subito Cazzo che c'è sta il golf? È la droga Che il golf? Ce ne erano infiniti Abbiamo capito il livello di difficoltà di questo video Vabbè che ti mette ansia È quella È la difficoltà di questo Non l'abbiamo spiegato Ciao raga dopo C'è sulla finestra saltellare Vi vogliamo bene Saltellare Johnny Crick Dopo la gran performance di Dreads Mi devi dire In 7 secondi 3 marche di moto BMW Suzuki Ducati Honda Sei fortissimo Con 4 secondi Ma è più facile Hai scelto A o B Potevi scegliere B È facile Ma Molto facile Ma Ha più di 3 È che Dreads fa come a scuola Ripete la domanda Così sembra che parli di più Dreads hai 7 secondi Per dirmi 5 console PS4 PS3 Xbox 360 Xbox One E Playstation 1 Da Da un secondo Potevi dire Playstation 1 2 3 4 L'ho detto 5 Fate i cazzi 2 E continua il programma Continua il programma Però non vale Playstation 1 Playstation 2 Eh no domani Non vale Ma che vuole Johnny Crick Devi dimmi 7 secondi Anche tu 5 Personaggi di Harry Potter Eh no Mi falla No Eh no Eh no L'hai già pensati Mi è venuto in mente Che fallito Mi è venuto in mente Ron Weasley Che fallito sei Mi sono focalizzato La faccia di Ron Con il rione di fianco Ma l'hai fatta apposta La domanda E poteva essere anche sua Però A e B L'ho fatta scegliere apposta All'inizio Hai perso Ok Poi sapevo lo scarso Si Si Non mi sbirciare le cose Ma chi te le sbirce Guarda quanta farida Che uccide lo specchio Allora Dread Hai 7 secondi Quando fa così Ti lanci Ma fa molto Questa televisiva Per dirmi Tra i personaggi di Star Wars Darth Vader Darth Vader Darth Fener Eh Come si chiama Eh Eh va Darth Vader Darth Vader Scritto con la Come è scritto Darth Vader Darth Vader Non Darth Vader E fa schifo Star Wars Fa schifo Fa schifo Fa una serie di merda Star Wars fa schifo Al cazzo Dai Questa l'avevo fatta per Johnny Rittmo Tu hai scelto A Johnny questa è facilissima Per te Hai 7 secondi Per dirmi 3 formal star Vabbè Lisanne Sylvia Saint Il cazzo è Sylvia Saint È famosissima Brigitte Bunkeri Ok L'andrò a cercare Oh questa è difficile Intanto ormai Questa è la più difficile Se hai delle 10 Che ti tocca Wow Hai 7 secondi Per dirmi Due situazioni Imbarazzanti Della vita Fisciarsi addosso E cagarsi addosso C'è questa domanda Era difficile Però mettici sotto Un bit Di sfera Ehi Johnny mi devi dire 3 youtuber non gaming Deluxe Matteo Ficarazzi Non gaming Non gaming Non capisce un caro Io ho capito Io ho capito Ma perché faccio le cose Ho capito Ho capito 3 youtube gaming Non gaming Non gaming Non gaming Non posso rifare L'hai già pensato A quest'ora Tra i modi per cucinare le uova Occhio di bue Frittata Eeeh Eeeh Sodo Sode Ti stavo facendo così Questo è sodo Questo è sodo Siamo in prigione E con le celle Ma tranquillo Dimmi 3 modi per fare soldi Rubare Eeeh Guadagnare legalmente Trovarsi un lavoro Che cazzo Ma non vale Ma che è No Per fare soldi Inteso Fare tanti soldi Rubare Vinciare una lotto Eeeh Lavorare Sposarsi con una Fuguna ricca Vero Sei un fallito Ma che sa vince Nessuno Nessuno Deve faccia schifo Entrani Vuoi dire che faccio il conduttore Jed 7 secondi per dirmi 4 calciatori Del celsi Fabregas Ma passati o presente Fabregas Diego Costa Hazard E check Non gioca più Con il celsi Eeeh Sei pisciato check Mi sa Arsenal L'hai pisciata No Non ha detto Attuali Nella domanda Adesso del celsi Ma william Gianni Questo è cambiato Affortunatamente Lo sto dicendo La setua Sì come no Dimmi In 7 secondi Sempre Ricordiamo il pubblico A casa 3 arti marziali Judo Karate Jiu Jitsu Vabbè Miradissima 3 web star Con un milione Di iscritti Su instagram Sascha Su real power E stephanie Perchè un milione Sì Complimenti ai mates Ti pare Cazzo di tutti i mates Allora Difficile E' un po' così Tre modi per farti del male Tagliarmi Spararmi Strizzarmi le palle Yeah baby Ma che domanda è Siamo nella situazione giusta Per rispondere a questa domanda Magino Dammi In 7 secondi Tre rimedi per il caldo Tre Rimedi per il caldo Condizionatore Ventilatore E una doccia fredda Fuck Staccandole al cazzo I detenuti Possono uscire Allora Johnny Questa è un po' più complicata Devi darmi Il nome Di Tre programmi televisivi Condotti da Gerry Scotti Passaparola E chi vuole essere Milionario Le Che Ah Cliccia la noticia Vabbè Cagione Caduta libera Caduta libera Beh questa a me è andata meglio Dread Facilissimo Perchè sei un youtuber Questa è facile Perchè sei un youtuber Che pari odio In youtube Dimmi il nome Di tre Oggetti Tra virgolette Virgolette È una sola enorme Virgolette Oggetti Di tendenza Di youtube Fidget spinner Ehm Oggetti No Challenge Ehm Porco Non è un oggetto Ma non è oggetti Fidget È un oggetto Oggetti Tra virgolette In senso Cosa trovi Ma non sa scrivere Cosa è oggetto Di tendenza Vabbè Ed rap però non capisci Ma c'è tu che non sai Mi fa protetta Tu domani Ma cosa vuol dire Era oggetto di tendenza Ma va bene C'è bro Oggetto in senso Shhh C'è caldo Voglio morire Gianni Spero che tu stia guardando Cosa A televisione Ehm Non ce la vorrei Però immagino Che tu Paghi delle tasse Su questa cosa Vero Faccio tante euro Allena E non guarda un chiasco Però Spero che tu segua Premium Synthesis Devi dirmi in tre Ma perché Ragazzi Ragazzi Powerballone Si sposta Da Alta Devi dirmi In sette secondi Veloce Tra i giocatori Dell'Under 21 Dell'Italia Dai che sta facendo gli europei Gianni Ma baffa Uno Ero dal dentista Petania Petania Bernardeschi Chiesa Conti Donna Ruma Rugani Caldara Porco 2 Gianni Fallito Fammi un'altra Non ne ho altre Ho saputo di questo Ma hai 41 domande Sono le ultime Una testa Ne rimango Le ultime Una Ho sette secondi Per farmi una doccia L'ultima Mi raccomando Hai sette secondi Per dirmi Tre sport Dell'atletica leggera Lancio del Ciavellotto 100 metri Maratona Quando tu mi hai chiesto Di Harry Potter Avevi si focalizzato Davanti Ron Weasley Con la tua faccia No io vado in panico Vedo un nerd Io diciamo Ne vado Occhio a capirla bene Che poi ci non l'ho capita E' più bruciare Non per cazzo Così però Il nome Di 4 Cocktail Mojito Room e Pera Coke e Room 4 cose Non è un cocktail Imbecillo Fallito Ma che cos'è Venga Iri Capiroska Gianni Room e Pera E' un ciupito Ragazzi Te la faccio io Vieni qua 5 programmi Che usi sul computer Sony Vegas After Effects Audition Audacity Fini del tempo Un applauso Che cosa Ma non è vero 4 tipi di Passa Rigatoni Spaghetti Penne Fusilli Tua madre Vabbè magari Fanculo Darth Vader Sinceramente Darth Vader Allora signori Ringraziamo i nostri fan Che alla finestra Ci hanno salutato Questa performance Di Johnny Kicked Redd Si può racchiudere Con semplicemente Imbarazzano Una merda Fai sta cazzo di auto Ho un cazzo di jetpack Aiuto Niente ragazzi A 35.000 like Io andrò a casa di Ron A Mariano Connese E gli pulirò E gli pulirò Le fughe Delle piastrelle Vi prego Lasciate 35.000 like E ci vediamo Al prossimo video Perché non ne posso più Bella E grazie a tutti Regà Ue la godo Ciao